Una vittoria di carattere importante non soltanto per la classifica ma soprattutto per il morale. Vincere contro l'Abellino non è soltanto una grande prova di personalità per la Virtus Francavela, infatti capace di tornare alla vittoria dopo oltre un mese nel suo stadio. E' bastato un gol di Vasquez dopo appena 120 secondi per portare a casa l'intera posta in palio. Per un attimo è tornato quel cinismo che tanto si chiedeva a questa squadra, così come è tornato il gol del suo bomber Vasquez, la sua esultanza è intrinseca di significati, con quella corsa senza destinazione che palesa la felicità di un calciatore che sembra finalmente esser tornato come ai vecchi tempi. Unica pecca della gara è il rigore sbagliato da Perez che ha macchiato una prestazione superlativa da parte del bomber originario di Mesagne. I gol arriveranno anche se in realtà lo aveva anche trovato, salvo poi vederselo annullare per un'irregolarità non ancora ben chiara. Non è soltanto gol però Perez e sacrificio altruismo verso la squadra, un giocatore chiave per questo Francavilla che se lo coccola in ogni caso è così come nel post-gara dove tutti sono andati ad abbracciarlo per rincuorrarlo. Ma lo disse anche lui la scorsa settimana, adesso il singolo punto a poco serve altruismo e spirito di gruppo e questo Francavilla sembra davvero averlo ritrovato.